Salernitana che non è arrivato però penso di aver fatto un'ottima gara peccato anche per il risultato che non è arrivato però penso che abbiamo dato il tutto per tutte penso che abbiamo dato una scossa al campionato esatto, sicuramente avete offerto oggi una grandissima prestazione forse è mancato solo il gol come hai detto tu pochi istanti fa può essere però Francesca questo è comunque un punto di ripartenza per la Salernitana già a Rio Nero era stata fatta un'ottima gara senza raccogliere niente oggi molto meglio di Rio Nero una volta senza raccogliere niente può essere comunque un punto di partenza questo si riparte dalla prestazione, dal gruppo? Penso che da oggi è ripartito il nostro campionato speriamo di fare bene la prossima e di vincere Perfetto, ringraziamo Francesca e facciamo ancora una volta i complimenti per la tua prestazione